In Regione Lombardia dall'inizio dell'anno fino al 31 marzo 2021, secondo i dati INAIL, sono stati 27 gli incidenti sul lavoro con esito mortale, a cui si devono aggiungere altri tre casi che si sono registrati solo nell'ultima settimana. Tre episodi avvenuti uno dopo l'altro che hanno riacceso i riflettori su un problema, quello delle morti bianche, troppo a lungo trascurato, che evidenzia come in Lombardia vi sia la necessità di incrementare la sicurezza sul posto di lavoro attraverso prevenzione, formazione e controllo. I fatti di cronaca anche di questi giorni pongono l'attenzione di tutti il fatto che in Italia si muore troppe volte sul lavoro, anche in Lombardia. Da qui la necessità di un'iniziativa anche forte che credo debba interessare la nostra Regione sotto due profili. Il primo, come chiediamo, è riunire tutti gli attori coinvolti nella vicenda, dal mondo dell'impresa al mondo del lavoro attraverso le rappresentanti sindacali, ma anche fare un'iniziativa forte dal punto di vista della competenza. Siamo in prossimità della riforma della legge 23, è l'occasione per intervenire in maniera decisiva nel potenziare le forme di prevenzione, di controllo e di verifica, perché io credo che sia una vergogna italiana, una vergogna lombarda, che delle donne e degli uomini muoiono ancora sul lavoro. Veniamo da un periodo, il 2020, dove abbiamo avuto più morti rispetto al 2019. Invece che aumentare l'attenzione si rischia di lasciare andare nel dimenticatoio un fatto così grave. Capisco l'emergenza Covid che ha richiamato l'attenzione di tutti, ma esiste anche un'emergenza che purtroppo accompagna la nostra vita da molti anni, che rischia di non essere sufficientemente considerata.